amadeus volben pensieri per una vita serena amadeus volben a cura dvb mediterranei molti chiedono la riforma del mondo quando si trovano in condizioni precarie gridano all'ingiustizia si agitano per una vita e un mondo migliore ma poi se la loro personale situazione cambia il meglio allora dimenticano tutto il resto del mondo e anzi arrivano perfino a difendere lo status quo